Crescono i positivi al covid in tutta Italia e anche in Valsesia i numeri parlano chiaro. In poche settimane la crescita dei contagi è stata esponenziale. Tra le città con il maggior numero di positivi, dopo il capoluogo di provincia Vercelli, c'è Borgo Sesia, un primato che allarma la popolazione. Ma cosa dicono i numeri? Abbiamo analizzato i dati che vengono comunicati dagli organi preposti e abbiamo estrapolato qualche percentuale davvero interessante. Abbiamo preso alcuni comuni a Campione, Alagna, Borgosesia, Gattinara, Cuarona, Serravalle, Valduggia e Varallosesia. Analizzando tre settimane dal 23 dicembre al 12 gennaio, le crescite sono state significative, ma nell'ultima settimana dal 6 al 12 gennaio la percentuale di crescita sta rallentando. Infatti si è passati da una crescita del 150 per cento tra la prima e la seconda settimana a un aumento del 72 per cento nell'ultima settimana. Sono sempre numeri in crescita e dunque preoccupanti, ma il decremento fa sperare in una inversione di tendenza. Per quanto riguarda Borgosesia, si è passati da una media di positivi nella settimana dal 23 al 29 dicembre di 105 a 254 della settimana successiva, fino a una media di 402 positivi tra il 6 e il 12 gennaio. Nonostante la crescita, si denota anche in questo caso un rallentamento dei tassi di crescita. Il comune che paradossalmente ha avuto la crescita maggiore del numero di positivi è Valduggia. Su una popolazione di poco più di 2000 abitanti, il numero medio di positivi tra il 23 e il 29 dicembre è stato di 6, per passare a 27 fino a 52 positivi in media tra il 6 e il 12 gennaio. Questo significa che l'incremento percentuale è stato di 4 volte e mezza tra la prima e la seconda settimana e di 2 volte tra la seconda settimana e la terza analizzate. Anche Serravalle-Sesia, che conta una popolazione di circa 5.000 abitanti, ha avuto una crescita percentuale di positivi di 4 volte tra la settimana 23-29 dicembre e quella successiva, 30 dicembre e 5 gennaio, e quasi del doppio tra quest'ultima e la settimana fino al 12 gennaio. I numeri, insomma, parlano chiaro. La quarta ondata della pandemia, trascinata dalla variante Omicron, non deve far abbassare la guardia, ma ci sono le premesse per un miglioramento nelle prossime settimane. Seguiteci su SniperWebTV per continuare ad essere aggiornati sull'andamento di questa pandemia.